Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovo episodio di Spirity with me, Cristiano Cervigni, episodio speciale perché oggi non parliamo di Chiara Ferragni, no, non parliamo di Hilary Blasi, no, non parliamo di Kate Middleton, no, ma com'è possibile? Ne parleremo domani tranquilli, online alle 13, ma oggi siamo qui riuniti per parlare di due TikToker ragazzi, voglio parlarne perché avevamo già affrontato questa faida social tra questi due ragazzi ben due anni fa quando scoppiò lo scandalo, ma dopo più di 24 mesi siamo qui riuniti per riparlare di Leonardo Maini Barbieri E di Giacomo Attanà perché, ragazzi e ragazzi e ragazzo, è virale da ormai più di una settimana un servizio andato in onda alla trasmissione di Italia 1, Le Iene, che riguarda i due protagonisti di oggi. Quindi andatevi a mettervi comodi, a prendere il vostro snack o bevanda preferita, state attentissimi perché adesso io vi vado a raccontare tutto quello che è successo, di cosa ha parlato il servizio delle Iene e poi vi vado a dire cosa ne penso. Ma soprattutto voglio sapere da parte vostra se è giusto o sbagliato questo spottanè tramite la televisione. Nel frattempo mettete anche mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale, momento Asmr, 3, 2, 1. Ok, speriamo che non mi faccia casino. Ok, sorso iniziale. Ah, e direi che possiamo iniziare a parlare di questa storia che non interessa a nessuno ma probabilmente interessa a tutti data la viralità della cosa. Facciamo un piccolo riassunto, recap iniziale. Chi è Leonardo Maini Barbieri? È un ragazzo che da qualche anno a questa parte ha creato un proprio profilo su TikTok, millantando di avere origini nobili e soprattutto di avere questo mega stile di vita di super lusso, fatto di shopping, fatto di cene super costose, di merende col tè rigorosamente allungato con latte come degli inglesi e comunque insomma lui video dopo video quotidianamente entra nelle case degli italiani spiattellando un po' in faccia alle persone dall'altra parte dello schermo la sua vita super ostentata di cose e oggetti di valore e di lusso. Dall'altra parte abbiamo Giacomo Attanà. Di Giacomo sappiamo poco tramite i suoi profili di TikTok ma ha comunque avuto un suo seguito proprio perché fin dai primi tempi ha caricato sul suo profilo TikTok dei video, in risposta ai video di Leonardo Maini Barbieri dove faceva vedere con le sue prove fotografiche e con le sue conoscenze che tutto o quasi quello che mostrava Leonardo come per esempio borse di lusso, come per esempio gioielli di Cartier fossero in realtà delle cose contraffatte, delle cose fake e che anche il suo titolo nobiliare fosse in realtà un'invenzione. Ho fatto un breve recap per presentarvi i protagonisti di oggi, di tutta questa storia, di tutta questa prima lite social ne abbiamo parlato due anni fa quindi non sto a rivangare il passato, se volete vi metto il video in questione qua sotto nell'infobox e ve lo potete andare a recuperare. Ma veniamo a noi. Questa guerra social è ormai sui social e soprattutto su TikTok da due anni come vi ho già detto ma sia Giacomo che Leonardo sono andati avanti per la propria strada Leonardo ha raggiunto più di 700.000 follower in questi anni e ha partecipato anche a tantissime trasmissioni televisive quali Ciao Darwin, quali Pomeriggio 5 e altri salottini di Mediaset e anche della Rai sfoggiando appunto il suo stile di vita mentre dall'altra parte Giacomo Attana si è fatto i suoi viaggi di super lusso tra le altre cose perché lo seguo su Instagram e avrà fatto anche i suoi lavori ma di tanto in tanto quando c'era da sbugiardare Leonardo tornava su TikTok sbugiardando appunto quello che aveva fatto questo giorno o quell'altro giorno Leonardo Leonardo a Giacomo non ha mai risposto pubblicamente ha semplicemente bloccato il profilo di Giacomo e vi devo dire anche la verità due anni fa quando affrontai questo argomento io lo seguivo anche su Instagram Leonardo ci siamo anche scritti mi era anche super simpatico perché come personaggio dai era fuori dalle righe era stupendo però al tempo stesso sapevo che era una cosa falsa anche perché ho conosciuto anche Giacomo ok e quindi io sono un ignorante come tutti ma qualcosa di borse qualcosa di gioielli me ne intendo quindi lo so riconosce una cosa falsa da una cosa vera anche se non ho le prove ma comunque questa faida mi divertiva perché rimaneva su TikTok rimaneva sui social era come quando noi facciamo gli spilling the tea di persone che si tradiscono facciamo le reaction a Temptation Island mi sembrava di stare a guardare una soppopera che non finiva mai di queste persone che si andavano contro l'un l'altro ok fino a questo momento tutto bene ma scorsa settimana la faida esce dagli schermi del social per entrare nelle case degli italiani per andare in televisione in quanto le Iene decide di fare un servizio trappola a Leonardo Maini Barbieri per smascherare una volta per tutti e sbugiardarlo davanti a milioni di italiani che stanno guardando la televisione o comunque che guarderanno il servizio online smaschereranno appunto Leonardo in quanto in realtà non è nobile in quanto in realtà la colpa di Leonardo sarebbe quella di non essere ricco ok un servizio molto allettante devo dire cosa succede? per smascherare Leonardo viene chiamato in soccorso delle Iene Giacomo Attanà da sempre come vi ho già detto storico antagonista sui social di Leonardo ma la cosa che ha fatto anche un po' indignare le persone che hanno guardato questo servizio è stata la modalità perché Stefano Corti la Iena che ha fatto il servizio ha chiamato Leonardo Maini Barbieri per creare a detta delle Iene un servizio sulla vita di Leonardo Maini e gli ha richiesto appunto di farsi fare un house tour della sua casa di andare a fare shopping per negozi via Monte Napoleone a Milano e soltanto quando la Iena e Leonardo sono in un bar a prendere il caffè arriva il trappolone in quanto Stefano fa la domanda a Leonardo senti ma di tutto questo successo te quanti haters hai? e mentre che Leonardo inizia la risposta si vede apparire dal nulla Giacomo Attanà e da lì inizia lo scontro tra i due più che scontro diciamo è stato boh è una cosa allora se lo devo guardare cinicamente da casa da telespettatore che vuole soltanto le liti le cose trash me lo sono goduto perché è stato ganso dall'altra parte se lo guardo in modalità umano con dei sentimenti mi sono un attimo vergognato perché è stata veramente una gogna mediatica è stata un'operazione per mettere in ridicolo un ragazzino ragazzi perché alla fine Leonardo quant'anni ha? 22? 23? 24? così metterlo alla mercè di tutto il popolo televisivo mi è sembrato un po' too much anche perché cioè qual è la tua unica colpa? che hai mentito spudoratamente sulla tua vita sui social? eeeh quanta gente che lo fa! se solo la mia bocca potesse parlare quante persone che voi reputate in un modo sono in realtà completamente diverse vi cascherebbero dei miti raga anche persone super insospettabili poi le conoscete davvero e dite erite quella vabbè comunque ritorniamo a noi Giacomo Attanà a questo punto con tanto di prove fotografiche chiede insistentemente ad un Leonardo Maini Barbieri visibilmente in imbarazzo e senza parole anche quasi scioccato perché vi ricordo che comunque è la prima volta che i due nemici si incontrano dal vivo cosa ci fai a Milano? ma guardo un po' chi si vede sono senza parole è la prima volta che ci vediamo dal vivo insomma Giacomo chiede a Leonardo ma questa borsa come mai è fake perché fingi dove l'hai comprata ma io ho questa prova di questo bracciale tutto quanto ma in realtà non sei nobile insomma inizia ad incalzare Leonardo che vi devo dire superato l'imbarazzo ah vi posso dire se ne è uscito anche abbastanza bene ok? in realtà anche perché alla fine stremato e messo all'angolo dalla verità che non potevi continuare a mentire ha ammesso che suo padre non è nobile ha diciamo ammesso che delle cose che ha non sono propriamente vere e ha ammesso che comunque lui quello che è su internet quello che è sui social è soltanto frutto della sua immaginazione perché si è creato un personaggio ma che comunque le persone non seguono lui perché ostenta questa vita lussuosa che in realtà ormai abbiamo scoperto non lo è ma perché lui parla anche di filosofia è una persona garbata è una persona con classe nonostante comunque la falsità del suo titolo nobiliare io mi sono auto incoronato come Napoleone e quindi mi sono stilato la lista dei titoli di una cosa e io me li sono auto messo su per giù è successo questo il servizio è andato online è andato in televisione e da subito il popolo del web ha avuto un'incredibile risposta innanzitutto non è finita là perché Leonardo Maini Barbieri dal suo Instagram pubblica delle Instagram stories riguardante questo servizio accusando comunque la redazione delle Iene di aver tagliato il servizio di non averlo mandato completo e sospetta che Giacomo Attanà era lì a fargli questo diciamo trappolone perché appunto ha delle conoscenze interne che quindi non vuole più parlare di questa cosa è stata una cosa architettata da loro a discapito di Leonardo una cosa volevo che fosse chiara poi non ne parlerò più quell'intervista è stata naturalmente tagliata e rimontata a secondo loro piacimento naturalmente io avevo risposto a tutte le domande e l'hanno montata naturalmente facendolo creare quello che non era ma va bene perché poi sono venuta a sapere che è stata tutta una cosa concordata realizzata anche per amicizie interne ma non mi importa perché la falsità della gente uscirà ma con calma a me non mi interessa il punto fondamentale è che voglio farvi capire e voglio farvi sapere amici che non mi fermerà nessuno neanche il monopattino che mi passa sottofondo non mi fermerà nessuno nessuno mi fermerà mai di postare arte bellezza filosofia e in tutti i posti in cui andrò io vi porterò con me di tutta risposta Giacomo Attanà pubblica un video sul suo profilo TikTok in cui dice allora innanzitutto va soltanto a tuo favore il fatto che il servizio è stato tagliato perché ci sono state delle cose che non hanno mandato in onda ma ti avrebbero messo ancora di più in ridicolo seconda cosa non è vero che io conosco qualcuno all'interno della redazione ma anzi sono stato contattato da Stefano la Iena delle Iene su Instagram fa vedere i messaggi io poi ho dato il mio numero e poi ci siamo accordati per fare questa cosa Giacomo finisce inoltre anche con un altro video dicendo in realtà io mi sono trovato anche un attimo in imbarazzo perché mi dispiaceva anche per te ma siccome te nonostante tutto nonostante sei stato sbugiardato nonostante abbiamo scoperto una volta per tutte e hai anche ammesso che la tua vita è una falsa continui imperterrito a mentire caro Leonardo spero che questo messaggio ti giunga e sono molto dispiaciuto di questa tua uscita nelle storie di Instagram dopo il servizio che abbiamo fatto perché mi fa capire che sei recidivo intanto vorrei dire che il fatto che l'intervista non sia andata in onda in modo integrale va a tuo vantaggio perché all'interno delle domande che ti sono state fatte venivano trattati altri temi di prodotti contraffatti o di cose che hai detto non vere che si aggiungevano alla lista di quelli che sono andati in onda per questo motivo il fatto che non siano andati in onda è un plus per te è meglio per te perché se no la lista di bugie sarebbe diventata maggiore e quindi le cose dette non vere eccetera eccetera sarebbero state di più per quanto riguarda l'insinuazione che fai riguardo le mie conoscenze nel programma visto che sono estremamente sincero e cristallino e lo sono sempre stato anche nel dire che le cose che dicevi o indossavi erano finte cosa che peraltro rifarei per altre mille volte ma magari vi spiego dopo il perché io sono stato contattato da Stefano via Instagram non ci conoscevamo non ci siamo mai visti e è nato tutto così non ho alcun tipo di conoscenza all'interno di quel programma e ora te la mostro anche questa cosa così smentisco questa accusa il 14 dicembre Stefano mi ha scritto ciao Giacomo sono Stefano Corti delle Iene riusciamo a sentirci per telefono per un progetto io gli ho lasciato il mio numero ed è nata tutto da lì nessuna conoscenza nessun tipo di conoscenza durante l'intervista devo anche ammettere che ho empatizzato il tuo stato d'animo e mi sono sentito anche un po' male per te perché ti vedevo un po' in difficoltà da una parte sono dispiaciuto dall'altra io trovo giusto che una persona con un seguito come il tuo che non è vero che ha acquisito quel seguito parlando di filosofia arte e tè con latte magari anche di tè con latte ma a parte del seguito tu l'hai acquisito facendo vedere giornate acquisti cose che avevi comprato cose che indossavi è giusto giustissimo che una persona come me è venuta fuori da nulla se hai resa conto di determinate cose che nel tuo caso erano infinite non è che nel tuo trascorso due o tre cose erano finte o non erano vere la lista è veramente lunga quindi si è fatto del debunking tu eri diventato famoso sui social e si sono messi dei puntini su lei questa è un processo normale che coinvolge tutte le persone che hanno visibilità e non è un attacco personale a te come spesso vuoi far sembrare recitando la parte della vittima o del bullizzato perché non sono il tipo di persona che fa queste cose ci ho detto mi dispiace della tua relazione mi dispiace molto della tua disonestà continua che speravo dopo questo incontro magari che da parte tua ci fosse un po' di onestà però vedo che continui quindi io ti auguro il meglio se senti di essere una bella persona facendo così continua così io non sono nessuno per dirti cosa devi fare però ecco questa è la mia risposta alle tue accuse un saluto e buona serata ok ragazzi il pubblico del web a questo punto è diviso c'è chi elogia Giacomo c'è chi difende Leonardo c'è chi dice a tutte e due ma trovatevi una fatica oppure ancora peggio ma fate un po' di pem pem invece di fare queste cavolate oh voi da che parte state siete dalla parte di Leonardo state dalla parte di Giacomo o state dalla parte di quelli che dicono ma perché non fate pem pem invece di sta perdere tempo in queste cose ora ragazzi meno male che c'è gente che perde tempo in queste cose perché così esistono anche i miei spilindetti il fatto è che a differenza cioè io ho visto il servizio e mi sarei aspettato una gogna mediatica assurda riguardante Leonardo Maini Barbieri perché alla fine raga quello che da due anni le persone pensavano ha avuto riscontro no? e quindi che lui tutto quello che fa è finto è soltanto un personaggio inventato in realtà non è nobile lo sappiamo in realtà mi hanno stupito le persone perché Leonardo Maini Barbieri ha molti ha ricevuto molto più sostegno rispetto all'odio ok? e dico anche che fortuna meno male perché la paura quando escono questi servizi è scatenare un'onda di odio assurda che sfocia anche magari nel bullismo verso qualcuno così a gratis ok? ma in realtà moltissimi commenti io ho guardato sia su Twitter sia su Instagram sia sui vari video di persone che parlavano di questa cosa che una grande maggioranza di persone hanno empatizzato con Leonardo Maini Barbieri ma anzi c'è anche chi non lo conosceva o chi magari prima lo odiava dopo questo servizio ha iniziato a seguirlo perché ha elogiato magari finalmente la propria sincerità e c'è a chi non è andato giù il fatto del trappolone c'è chi invece ovviamente dà ragione a Giacomo dicendo oh giustizia è stata fatta dopo due anni di menzogne abbiamo smascherato una volta per tutte il falso e finalmente ha avuto quello che si merita punto questo è quello che è successo adesso andiamo ad analizzare perché andiamo oltre la mia conoscenza con Giacomo andiamo oltre la mia ex conoscenza con Leonardo io in questo video voglio essere un attimo al di là delle parti al di là delle conoscenze lo voglio analizzare oggettivamente ok vi ripeto fino a quando si trattava di una faida sui social quante ne esistono che ci divertono e che ci fanno compagnia io mi sono anche divertito no ho anche parlato a volte con Giacomo dicendo no ma com'è possibile che continuo a far finta di dire che quella borsa boh di Louis Vuitton è vera che neanche esiste sul mercato una borsa del genere insomma era una cosa così no per gossipare tra gli amici no un argomento che non frega nulla nessuno ma che è un argomento superficiale che un argomento da bar ok una discussione da bar ok il fatto però è che io magari da questo servizio delle iene mi sarei aspettato anche qualcosa di diverso ok ma forse ma perché io ho delle cose cioè ho degli interessi diversi in realtà abbiamo visto che il fine ultimo di di questo servizio è stato smascherare personaggio di Leonardo dicendo a tutti che sta facendo finta di essere ricco ma in realtà non è ricco ok dico io lo sapevamo già Giacomo Attana stava già facendo questo lavoro su TikTok smascherandolo quindi eravamo tutti a conoscenza di questa cosa qual è il fine ultimo perché ci hai detto questa cosa perché hai mandato in televisione anzi hai pensato di fare un servizio così non posso credere che il fine è soltanto quello di mettere all'agonia mediatica un ragazzo solo perché non solo perché perché si è inventato un personaggio sui social e fa finta di essere ricco e in realtà è povero ci deve essere qualcosa sotto in realtà no raga è tutto lì il servizio ed è quello che mi ci ha fatto rimanere un attimo male perché loro hanno affrontato anche il fatto che lui avrebbe comprato delle borse fake tramite una pagina social che vende imitazioni io lì mi aspettavo ok smascheriamo lui ma andiamo ad indagare come mai esistono tantissime pagine tantissimi siti che vendono indisturbate imitazioni o robe fake che è una cosa illegale ripeto cioè non ho capito è come se avessero fatto passare il messaggio ok esistono questi siti ognuno può comprare quello che gli pare anche se è illegale però se fai finta di avere i soldi sui social ti vengo a smascherare no dovevi magari sì fare un servizio del genere ma ci integravi anche tutta la problematica del comprare roba contraffatta del magari dello sfruttamento delle persone che fabbricano queste cose del del danno che provochi a le aziende che in realtà fanno cose vere del perché è illegale del perché è brutto e non si può comprare roba falsa di magari mandalo anche come segno di sei uno sfigato perché piuttosto che comprare una roba fake che fa cacare ed è illegale comprate una borsa che costa 50 euro ma che è bella uguale e invece tutto questo viene lasciato lì in disparte a prendere polvere e nessuno ne parla ok hai voluto smascherare leonardo bravi ok fatto bene una volta per tutte abbiamo la conferma anche da parte sua perché vi ripeto fino a questo momento lui aveva sempre negato o comunque aveva sempre finto di essere nobile e ricco abbiamo la conferma oh finite il servizio facendo un un messaggio alla nazione dicendo ragazzi se voi vedendo lui o altre persone che vi fanno vedere sui social una vita di lusso una vita perfetta una vita in cui conta soltanto quanti soldi hai conta soltanto quante borse costose firmate hai quanto shopping fai quanti viaggi fai e guardando questi personaggi vi sentite degli sfigati vi sentite un gradino sotto loro sappiate sappiate che quello che vedete sui social molte volte non è non rispecchia la verità quindi è sbagliato il messaggio se hai soldi conti più di chi non hai soldi potevi fare una sorta una specie di messaggio del genere alla fine del servizio potevi approfittarne per parlare magari di queste cose e invece no è per quello che io dico boh è stato un servizio così acchiappa click sicuro perché Leonardo Maini Barbieri su TikTok è sempre virale sui video quasi tutti fanno più di un milione di views il suo nome fa gola e non hai voluto in realtà approfondire varie tematiche ma soltanto vuoi tirar del fango in faccia alle persone così per completare il tuo compitino io l'ho pensata così anche perché ok lui ha mentito ok lui ha detto di essere nobile ma in realtà non lo è ma ragazzi siamo nel 2024 ma chi se ne frega se una persona è nobile cioè davvero i nobili nel vostro immaginario contano qualcosa essere nobile è un qualcosa in più dell'essere una persona normale la nobiltà in Italia cioè non gliene frega un cavolo a nessuno siamo una repubblica non c'è il re non siamo in Inghilterra ragazzi che me ne frega se te nel tuo stemma hai cinque palle io ne ho due grosse ossi e non vengo a facci uno stemma non me ne frega niente della tua nobiltà poi se lo sei beh venga buon per te ma se non lo sei non è che ti devi vergognare di non esserlo ok e soprattutto ritornando al fatto di Leonardo Maini Barbieri ok ha mentito ok ha spudoratamente si è spudoratamente creato una carriera mentendo su tutto però è andato ad usare questa sua identità falsa per rubare soldi a qualcuno per far finta di fare beneficenza quando in realtà si è intascato i soldi lui non mi sembra è andato ad usare questa sua finta nobiltà per ingannare i negozi dicendo vabbè ma regalamelo io sono nobile poi te lo pagherò come non lo so Anna Delvey e poi non paghi niente e quindi sei scappato e quindi hai truffato non mi sembra lui andava nei negozi si faceva le foto con le cose vere e poi a casa faceva vedere la stessa roba però fake a parte il comprare roba contraffatta e quindi a fare questa cosa che non si può fare non si potrebbe fare non è che ha rubato i soldi a qualcuno ok mi hanno fatto ridere dei commenti che dicevano inventing Anna è la serie di Anna Delvey di Netflix adesso faranno inventing Leonardo quella è una cosa che mi fa ridere però da qui lei l'ha voluto sputtane ok ma mandaci un messaggio a casa che ci possa insegnare qualcosa così è sembrato soltanto un branco di lupi che ha cerchiato una pecora e l'ha e si è diviso il bottino con tutti da casa capite quello che voglio dire anche perché più che altro io inviterei la redazione delle Iene ok a fare anche queste cose perché comunque sono le Iene raga ci stanno un servizio così io me lo posso aspettare dalle Iene sono anni e anni che fanno le cose così però indagate dato che ormai la televisione sappiamo che è contro i social perché gli stanno rubando pubblico a diritto e quindi ogni volta che c'è da parlare di influencer o content creator in televisione se ne parla sempre male perché si vuole affossare la categoria cercando un po' di risorgere di far risorgere la televisione però dato che ormai siete contro le persone che fanno questo sui social perché non indagate perché non fate un servizio su tutti quegli influencer o sedicenti influencer che sponsorizzano vere e proprie truffe perché non fate un servizio sui truffaguru che loro incule i soldi che loro truffano le persone che loro fanno finta di vivere a Dubai sommersi dal lusso con i soldi delle persone ignoranti perché se credete a queste cose allora siete anche ignoranti che credono che se compri un loro pacchetto di corso come diventare milionario come me a mille euro allora magicamente diventi milionario come lui no diventi un truffatore come loro al massimo perché queste persone truffano le persone che le guardano lì potrebbe venire fuori un servizio super interessante dove c'è lo sputtanè dei content creator che fanno queste cose ma al tempo stesso dai anche un messaggio alle persone ignoranti che da casa ti guardano e magari fino all'altro ieri ci credevano e volevano spendere soldi per darli a loro e lì poi aprono l'occhi quello è un servizio pubblico interessante non andare a far vedere la casa di un ragazzino che sui social è odiato perché fa finta di essere un nobile boh è una cosa anche un po' pericolosa ma detto questo ragazzi ragazzi ragazzo io voglio sapere da parte vostra cosa ne pensate cioè è giusto che la televisione un mezzo come la televisione usi questo suo potere mediatico per mettere alla gogna determinati ragazzi o determinati personaggi senza però dare un messaggio dare una lezione di vita è stato giusto sputtanè una volta per tutto Leonardo Maieri Barbieri che in realtà non è ricco che in realtà si è creato un personaggio e tutto quanto non è nobile e chi se ne frega perché mi inlantava sui social questa vita fittizia questa vita fake anche se ripeto penso al giorno d'oggi non serviva il costo delle iene non servivano le iene l'avevamo capito tutti voglio ben sperare oppure è stato un po' too much come la penso io dato dal fatto che appunto non hanno sfruttato questa cosa per veicolare un messaggio carino un messaggio di insegnamento boh io penso questo detto questo non ce l'ho con nessuno mi raccomando ora che un mi venite a suonare a me a casa le mie borse sono tutte vere perché io fake sapete che sono contro queste cose anzi piuttosto non prendete niente raga ma ripeto si poteva fare un servizio del genere ma anche analizzando i vari fattori del perché il fake è così diffuso del perché non ci sono delle leggi adeguate contro o magari del non sentirsi meno dei personaggi famosi perché molte volte mentono e inventano delle cose potevamo insomma spremere il servizio un po' di più e spremere le meningi un po' di più per per fare un servizio completo fatto bene in cui all'interno c'era anche lo sputtenè ok per avere la viralità non lo so raga abbiamo parlato anche abbastanza oggi del nulla praticamente però volevo parlarne insieme a voi dato che ne sta parlando tutto il web fatemi sapere quindi cosa ne pensate qua sotto tramite commento fatemi sapere se non sapevate niente di questa storia e comunque ascoltandola da me cosa ne pensate mettete mi piace a questo spill the tea with me un po' diverso rispetto al normale se vi è piaciuto iscrivete al mio canale se ancora non l'avete fatto per oggi è tutto ci vediamo domani ciao wow ciao